Io ho 50 anni e le donne mie coetanee, quelle che hanno qualche anno più di me, si trovano a vivere una condizione pessima, tremenda. Se una donna non si è costruita una storia sentimentale stabile, superati i 50, che ha passato tutta la vita a farsi bella dentro, scopre che gli uomini vogliono solo quelle belle fuori. Perché tutti gli uomini di tutte le età vogliono fare sesso con quelle dai 14 ai 24. E questo che cosa ci dice? Ci dice che tutti gli uomini sono stronzi. Sì, giustissimo, ma quando l'hai detto non cambia la situazione, continui a dormire da sola. Allora io ho provato a proporre una soluzione alle mie amiche, perché se uno guarda proprio la situazione bene, con realismo, che cosa vede? Sì, è vero, tutti gli uomini sono stronzi, ma c'è un gruppo di uomini che sono un po' meno stronzi degli altri, e sono quelli che hanno dai 14 ai 24 anni, che ci sono tutti gli uomini di tutte le età che arrivano come tigri, come lupi, su queste prede, questi qua hanno la macchina, la moto, i soldi, possono andare in albergo, hanno la casa al mare, non hanno la mamma che rompe le scatole se tornano tardi la notte, e questi poveri ragazzini si trovano a fare una concorrenza svantaggiata, un disastro, allora voglio dire, c'è la domanda, c'è l'offerta, mettiamola in comunicazione, ho provato a dirlo alle mie amiche, è immorale, no cazzo, la morale è una cosa, la morale è un cavolo, allora sei contro la guerra? Sei per dar da mangiare ai bambini che muovono di fame? sei contro l'inquinamento? E cosa fai? Ti incazzi con Bush? Adesso? Bush ha 14 anni e voleva fare il cantante rock, 10 anni di seghe e adesso vuole distruggere l'Iraq, ma è inutile che tu te la pigli con lui adesso, è rovinato, dovevi agire prima, non ti interessa niente di politica? Sarai preoccupata per la tua nipotina, no? Vedi con che gente va in giro, senza caschi, con quei motorini truccati, si drogano in discoteca fino all'alba a far casino, sempre a cercare pericoli, e cosa fai? Le fai una bella predica? Brava, le prediche da sempre hanno risolto tutti i problemi con gli adolescenti, è scientifico, tu hai un'unica possibilità, se vuoi veramente bene la tua nipotina, individuare quali sono i suoi amichetti più scalmanati e poi copularli sistematicamente, e vedi che alle 10 di sera crollano perché sono distrutti, vanno in giro col casco, struccano i motorini, non si drogano più, e lì le obiezioni delle mie amiche sono infinite, ma è illegale, beh, illegale dai 14 ai 18, dai 18 ai 24 è legalissimo, sono comunque centinaia, migliaia di ragazzi con degli ormoni esplosivi, ma cosa vuoi che dica io a un ragazzino di 18 anni? Non dirgli niente, trombi e poi vai a parlare col cinquantenne dei suoi problemi con la sua ex moglie, le sue ex figlie, ma dai, ma quelle tali non sono neanche capaci di fare l'amore, vero, però imparano, soprattutto se usi il sistema azione corretta gratificazione erotica progressiva, imparano anche molto velocemente, e poi diciamolo, è vero che la quantità non conta, ma se è tanta, conta, cioè, loro dopo la prima, altre tre non se ne accorgono neanche, ma come vuoi, ma come puoi pensare che mi possa bastare un ragazzino di 18 anni? Diglielo, tesoro, non mi basti, domani venite in tre. Non fanno una piega proprio, arrivano belli, pettinati. Ma dai, ma sarebbe una storia troppo impegnativa. Ma non è vero, se hai un contrattempo glielo dici. Tesoro, guarda, scusami, lo so che ti ho dato appuntamento, però mi ha telefonato mia figlia, devo correre a scuola a prendere la mia nipotina, però guarda, ho parlato con la mia vicina di casa sopra, lei è disponibile, vai, vai. Non c'è problema. Ma l'ultima trincea difensiva, l'ultimo baluardo, è proprio l'ultima opposizione delle mie amiche, e alla fine è sempre la stessa. Ma mi hai vista? Sono vecchia, sono cellulitica, sono grassa, sono cadente, come vuoi che è un ragazzo, che hanno tutta quella pelle vellutata, voglia fare sesso con me. Sono vecchia. Informa te. Vai su internet, digiti su un motore di ricerca vecchia cellulitica, very old fat woman, e ti vengono fuori decine e decine di migliaia di siti a pagamento, perché ci sono milioni di giovani disposti a pagare per vedere delle donne vere, che fanno del sesso vero, non se le solite cose di plastica. Ragazzi, fatevi un giro su questi siti, perché vedete delle cose che non potete neanche immaginare lontanamente. Io ho trovato un sito con delle vecchiette ultraottantenni, che facevano delle cose orali stereo con la dentiera fuori, cioè una cosa proprio da follia!